E' il suo sogno, il progetto che Eri coltiva con tutto il suo amore, come un contadino si prende cura del suo vigneto. La vite è una pianta che richiede molta cura. Il sogno di Dio è il suo popolo. Eri lo ha piantato e lo coltiva con amore paziente e fedele, perché diventa un popolo santo, un popolo che porti tanti buoni frutti di giustizia. Ma sia nell'antica profezia, sia nella parabola di Gesù, il sogno di Dio viene frustrato. Isaia dice che la vigna, tanto amata e curata, ha prodotto accini e acerbio. Mentre Dio si aspettava giustizia, ed ecco il spargimento di sangue. Attendeva gratitudine, ed ecco grida Dio presa.